e buonasera a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi non sarà un video a tema cibo non sarà un'intervista che è già uscita nel canale la da vederla lasciamo il link qua qua oggi faremo un video diverso sarà molto particolare andrò a vedere la cronologia di google della mia ragazza cioè questa persona qua quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa si nasconde nella cronologia allora la prima ricerca è tu non guardare mediaset milano perché hai cercato mediaset milano io ho diventato a milano perché poteva essere padova poi ha incercato rendito di cittadinanza ultima ora tu quando hai schiacciato prima manticola rimetti naturali bernini opera più importante fontana dei quattro fiumi boh andiamo avanti adesso andiamo sull'interessante perché qua abbiamo cercato abbiamo cercato diventare un modello situazione del casting sicuramente vuole andare anche lei ma non ce la farà mai perché non ha il talento che è la bellezza quanto dura un provino 10 minuti no? sì 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 perché pratica io nel giorno no non abbiamo fatto video quel giorno no vabbè un giorno siamo andati a fare dei provini a padova io l'ho accompagnata lei mi ha accompagnato e quindi mi hanno preso ma non vuole prendermi ma ormai siamo su youtube jeffsaid però me l'hai mandato tu sono io jeffsaid cercatemi e ditemi se sei uno jeffsaid no non le assomiglio per me c'è scusa scrivete sotto nei commenti se assomiglio a jeffsaid guardatemi eh qua andiamo sull'illegale streaming film gratis eh qua meglio censurare perché è molto grave la cosa eh qua qua si allora mettiamo come dire un punto su questo discorso è illegale è illegale è illegale mettere shhh è illegale guardare film su quelle piattaforme lì sappiatelo sì è illegale e poi vabbè non ascoltate questo cittadino questo cittadino impazzito dovete pagare per guardare film ma non sei uguale oh ti devo civilizzare shallow death dai vediamo se lo sai adesso dai 321 lei una cantante farà shallow no vabbè canta no vabbè sarò per la prossima volta a 50 like deve cantare va bene a fare fatto A 50 like, Denise, la piccola, canterà. Ma di questo video? Sì, a 50 like. Non ci aiuterò. Ok. Rocket giostra. Allora, più di adesso, scemo qua, siamo andati alle giostre qua a Udine. E io volevo fare sta giostra... Io volevo fare sta giostra orribile, che si chiama Rocket. Boh, ma tutti dati non hanno l'alancetta. Boh, sì, quella altissima. Quella è stra alta, in pratica, per me è anche un'altra, dai, pazzi. Mi voleva far morire, è nulla. E quindi ho fatto fare questa bellissima esperienza. Mai più. Ed è felicissima. No, non sono felicissima, tassi. E' il massimo. Era felicissima. No. Bullet bonk. Eh, perché doveva andare. Ah, sì, che doveva andare al bullet bonk. Andremo anche lì, forse chissà quando. Boh. 600 azzurra. Ah, sì, perché probabilmente sarà la mia matura macchina. Quindi, che cazzo vuole? Un caffero a shop. E quindi, sì, sarà molto bella. Sì, sì, sì. Ah, no, non si può appoggiare su YouTube. Non ne so, non ti ha appoggiato, ti ho fatto una carezza. FIFA 19 e Xbox 360. Allora, sto qua vuole cantare più per 19, però non gliela regalerò. No, devo cercare la mia matura. No, voglio cercare questo regale, sennò io farò qualcosa di altro. Vediamo, dipende. A 100 like faremo cambio di cronologia. Cioè, 100 like perché è meglio così. Quindi, fate arrivare il video a 100 like, che così sarà lei a guardare la mia cronologia. E speriamo che non arriveremo mai, si dice così. Speriamo di non arrivare mai a 100 like perché sennò, sì, perché sennò è un po' un problema. Sennò dobbiamo censurare un po'. Il video finisce qua e ci vediamo nel prossimo video. Mettete like. E con me. Sì, cioè non troppi like, eh. E al prossimo video, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.